Carte di credito, bancomat prepagate, comode e sicure senza dubbio, ma nemiche del risparmio in tempo di crisi. Per tenere sotto controllo il budget settimanale, i sulbonesi, almeno quelli che hanno risposto alla nostra raccolta di opinioni, scelgono di pagare in contanti. Se da un lato le carte di credito sono più comode e meno ingombranti, più adatte a una società che si evolve, controllare quanti soldi scappano dal portafoglio è un modo per i sulbonesi per agire e sfendere con prudenza. Certo, il contante bisogna averlo e purtroppo non basta tenersi solo all'uso della moneta sonante per vedere rifiorire la propria economia domestica quando lavoro manca e non si ha la possibilità di altri guadagni. Si parla di economia nelle piazze cittadine e viene meno il sorriso. Pago sempre in contanti. Carte è molto costa. Con il banco, man. Io sempre in contanti. Almeno a fine mese so quando spendo. Purtroppo sono un troglodito perché pago ancora in contanti.